Con l'uside crescenza di Europitchers che distribuisce il film Thumbdown di Michel Franco al cinema da giovedì 14 aprile 2022, ben trovata. Ben trovato caro, visto che ho fatto pure la sorpresa di Pasqua. Cosa si racconta in questo film? Già dal nome Thumbdown racconta un po' il tramonto di un uomo, diciamo che in realtà racconta la ragazza di una ricca famiglia inglese in Messico in questa capulco bellissima che però ha il suo lato oscuro perché in effetti vediamo anche soldati in affetto o di guerra sulla spiaggia, killer anche e quindi tutto ciò succede anche sotto l'ombrellone. E se il film parte un po' in una dimensione messicana, riflessiva, anche lenta, poi dopo appunto ci sarà un twist importante, tu l'hai visto e quindi il film diventa un thriller. Cosa ti ha convinto? Il fatto che Michel Franco fosse di nuovo in concorso dopo aver vinto appunto il Leone d'Argento con Nuevo Order, l'anno dopo di nuovo in concorso a Venezia, dico, abbazza che regista prolifico. Non ho avuto alcun dubbio quando ho visto il film, l'atmosfera, la fotografia, la recitazione incredibile di Tim Roth fatta di poche parole, molti sguardi, anche per carità la Charlotte James Bush bravissima. Un po' tutto e anche la storia mi ha fatto molto riflettere, insomma non ho avuto alcun dubbio a fare questa acquisizione e a portare questo film in Italia. All'estero cosa ha combinato? In America ancora deve uscire però appunto hanno la distribuzione americana, è stato venduto in tutti i paesi, però io sono uno dei primi paesi appunto che è uscito. Tant'è vero che sia Michel Franco che Tim Roth come sai appunto si sono messi a disposizione anche per le interviste, hanno fatto delle conferenze stampa online e insomma hanno coperto molto il film, il lancio. Particolarmente Tim Roth ci teneva veramente molto a questo suo ruolo minimalista, intimista e ne ha parlato veramente veramente a lungo. Che uscita sarà? Sarà un'uscita di una cinquantina di copie come sempre e un'uscita di qualità soprattutto di città, del circuito cinema dove io appunto sono socia e poco nei molti sala perché comunque questo è sempre un film da pubblico di qualità. Ci dai tutti i riferimenti web anche per sapere le sale? Le sale insomma a breve verrà pubblicato sia sul sito che le nostre pagine social, tutto l'elenco sale ma ovviamente se parliamo di Milano parliamo di Anteo Colosseo, se parliamo di Roma parliamo di Giulio, Greenwich, Mignon, insomma la tendenza è quella, le sale di quel pubblico che segue il cinema di qualità. Il film Sundown di Michel Franco alla cinema da giovedì 14 aprile 2022, un saluto e un ringraziamento all'Usi de Crescenzo di Euro Pictures che lo distribuisce. A presto! A presto, grazie a te!